Questa è una cosa che abbiamo già preparato due anni fa, l'anno scorso per situazione contingente non l'abbiamo potuta disputare, ma la rifacciamo il 22 febbraio, una cosa molto bella, stiamo preparando una bella edizione perché verranno gente di fuori, abbiamo già dei contatti di persone che vogliono venire, che ci hanno chiesto la data perché vogliono prendere i voli per poter pagare di meno, questo ci favorirà. Cerchiamo di portare 2.000 persone il 22 febbraio, significa destanalizzare le manifestazioni, questo si vuole perché avere tanta gente nel periodo estivo è facile, nel periodo infernale è molto più difficile, però la gente viene, il percorso è omologato, è una bella cosa, stiamo preparando anche delle manifestazioni collaterali, credo che sarà un bel pochetto per il 22 e il 23 febbraio. La Maradona prenderà sicuramente il posto del Peppe Greco perché ahimè non lo verrà più fatto, l'associazione chiuderà nel 2020, chiuderà come associazione, credo che non ci sarà più e faremo tante altre cose con altre associazioni collaterali di altre persone che ci stanno collaborando.